Quanto più giusto ti attacchi, di meno forza spegni, fai bene, buona leva, spegni, e senti, vedi c'è, testa, controlla mio, non permette che io mi libo, bene, braccia, adesso con un movimento, hop, bravo, piegati, controlla ti bene, bene, e vedrissati, vedrissati, oh, vai 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 vai, vai vai, oh, adesso si, hai capito? Basta, non c'è giù la mano, è che se posa il tuo capo e fa male, sì, però qua, tu non devi tenere, devi andare a tenere qui, qui, posto, sì, e pollici su, Basta, con un movimento, hop, è inizia, polescio controlla, non, oh, adesso vai, vai vai vai, stop, dei, Bene, hai capito? Sì, basta. Dove sono adesso? 9 8 e 4 E solo che mi cambio, subito, da l'altra parte. No, subito. No, vedi? Troppi movimenti. Fai di qua, fai di qua. Adesso fai, fai, fai. Guarda, io esco e tu devi cambiare subito da l'altra parte. Ok. Oh, è questo, fai. Hai capito? Tutto in un movimento, non che devi... Vabbè, adesso capisco che vuoi memorizzare meglio. Non dovete essere universali. Di là non va a spaccare un'altra parte. Poi, adesso, quando sarai sopra... Braccia sarà chiuso, si può chiuso. Pieda, queste gambe che saranno sopra mia testa. Devi prendere il tuo talone e guiare gambe. Per fare diamond chop. No, non vedi. Adesso ti guardi. Tu fai quello che serve. Poi, da questo passi a presa di tuo talone. Ah, ok, ok. Prendi quella gamba che sarà sopra mio testo. Fai un movimento. Hop. Hop. Bene. Prendi il talone. Fai, 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 fai. Capito? Da l'altra parte. Subito. Hop. Palone. Vedi? Questo si chiama diamond chop. Capito? Sì. Ancora una volta. Questa mi sembra che hai imparato. Senti che sei morbido. Guarda, fai, fai Kimura. Kimura? Sì. Allora. Lui si libera. Capito? Brava. Tu devi essere pronta anche per... Vedi come si trasforma uno in altro. Lui scappa di qua subito dall'altra parte. Qui si riduca. Sì. Questa è un po' prima. Sì. E riguardo. Espere una piccola. Lui sia. Ci indi che sei oratorio. Questa è una piccola. Il si tratta. Sì. Da'ci. Ci sono fri. Ce che è. Vu. C'è il si è piaci. si, si, si si, si si, si bene, adesso facciamo quella cosa di attacca di colpaccio in dietro si, si, si entra ok ok